Episodio 13 di Tailwind, arriviamo a parlare di Responsive Design. Se vi ricordate, abbiamo parlato di tutti i layout possibili, tuttavia non abbiamo ancora parlato appunto delle media queries e del Responsive Design, quindi abbiamo avuto ad esempio delle Flexbox che, come vedremo adesso, erano in posizione ad esempio RAW ed erano in RAW per qualsiasi tipo di schermo. Quindi generalmente per gli schermi da telefono noi le vorremmo ad esempio tutte incolonnate, oppure le avremmo potute avere incolonnate per i mobile, ma poi rimanevano incolonnate anche per tutti gli altri schermi, nonostante le dimensioni fossero più grandi. Quindi l'ho fatto apposta questo per generarvi appunto la domanda, come faccio sempre nei miei corsi. Ok, sappiamo fare tutti questi layout, però io devo poterli cambiare in base allo schermo. Come posso fare? Quindi la domanda che voi vi ponete e questa è la risposta. Avendo voi già la domanda pronta, siete pronte a ricevere la risposta. Ok, se non l'avessi buttato prima, magari non avreste colto le varie sfumature, oppure non vi sarebbe rimasto in testa. Quindi cominciamo subito e andiamo a creare il classico div con .flex, .flex, perfetto. Ed entro andiamo a creare i classici div flex che abbiamo già fatto, quindi .p10, .bg slate, facciamo 300, .border, .border slate, facciamo 500. Altro da dire? No, va bene così. Quindi possiamo aprire le parentesi graffe, mettere qua l'asterisco per prendere il valore automatico, e poi lo moltiplichiamo per 5, tab, e abbiamo quello che ci serve. Salvo, molto bene. Abbiamo i nostri elementi. Allora, come vedete, scusatemi, facciamo così. Abbiamo i nostri elementi e al momento siamo, tra virgolette, in modalità mobile, quindi quello che vorremmo fare adesso è un bel flex call. Io salvo, vedete, siamo in un normalissimo flex box da mobile, quindi dall'alto verso il basso, tutto incolonnato, eccetera. Ma, cosa succede? Io voglio spostarmi, chiaramente, adesso sono da tablet, adesso sono da un PC un po' più grande, adesso sono da un PC da 1080, e potrei andare avanti fino al 4K, eppure, è così, io lo voglio cambiare, giustamente vogliamo poterlo cambiare. Generalmente utilizzeremmo le media query, quindi dobbiamo aprire il CSS, cominciare a scrivere le media query, prendere i breakpoint classici, eccetera, eccetera. Qua, invece, con Tailwind, come tutto il resto delle altre regole CSS, diventa tutto più semplice. Ecco qua, questi sono i breakpoint predefiniti. Small, 640. Medium, 768. Pixel, intendo. Large, 1024. XL, 1280. 2XL, 1536. Cominciamoli, quindi, a sfruttare. Allora, noi abbiamo flex call, qua, in modalità mobile, e adesso vogliamo che per il tablet, le cose cambiano, o dal tablet in poi, le cose cambiano. Quindi potremmo fare un bel flex row. Facciamo così. Vediamo un po', trasciniamo, e vedete, siamo arrivati a medium, ed improvvisamente abbiamo flex row. Quindi con questo prefisso MD, così come gli altri SM, MD, LG, XL e 2XL, possiamo facilmente gestire il responsive per qualsiasi regola che abbiamo imparato. Più tutte le altre che magari erano un po' più di nicchia, sono nella documentazione e non abbiamo visto. Con questo semplice modo possiamo gestire tutto, e ripeto, tutto, il CSS in formato responsive. E ve lo dimostro. Allora, cominciamo a scrivere tante classi qua. Abbiamo, voglio cambiare il BG, quindi mettiamo MD, due punti, BG, Red, 300. Poi, LG, due punti, BG, Pink, 300. Poi, XL, due punti, BG, Green, Green, 300. E poi per concludere abbiamo, 2XL, due punti, BG, Indigo, 300. Salviamo, e godiamoci il cambio dei background. Ok? L'ho fatto su tutte, 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 quelle che sono le possibilità predefinite di Tailwind riguardante i breakpoint. Allora, andiamo avanti. Vedete? Siamo arrivati in Medium, perciò è diventato Red 300. Andiamo avanti. È diventato Pink, vedete? Andiamo avanti. È diventato Green. Andiamo avanti. È diventato Indigo. Ok? Quindi, ripeto, possiamo utilizzare questi breakpoint per qualsiasi cosa. Non solo, abbiamo la possibilità di assegnare valori arbitrari. Perciò, anziché utilizzare MD, potremmo utilizzare Min o Max. Quindi potremmo dire Min, e cosa diciamo? Anzi, facciamo Min, e mettiamo magari, non 768, ma facciamo un intermezzo, 900. Ok? Facciamo 900 pixel. Andiamo di Flex Raw, quindi Min 900. In questo momento dovremmo essere sempre sul Medium, ma quasi vicino a LG. Quindi dovreste vedere che arriviamo prima sul Rosso, poi andiamo avanti e avanti, va in Flex Raw, perché siamo a metà, vedete? Ho scelto 900 apposta, metà tra MD e LG. Quindi arriviamo prima sul Rosso. A metà diventa Flex Raw, e la metà dopo diventa subito Pink. Ok? Proviamoci. Quindi andiamo avanti, diventa Rosso, e non è ancora diventato, avete visto che non è diventato Flex Raw, perché ho cambiato. Andiamo avanti, perfetto, è diventato Flex Raw, e se andiamo avanti ancora un pochino, Pink. Quindi abbiamo la possibilità, non solo di utilizzare i breakpoint predefiniti, poi più avanti vedremo che li possiamo customizzare nel file di customizzazione. Ripeto, tenete sempre a mente che tutto ciò che facciamo, in realtà possiamo personalizzarlo, poi nel file, appunto, delle regole custom, però sappiate che possiamo veramente avere valori arbitrari per praticamente qualsiasi cosa, sempre comunque in linea legato alla classe. Mentre invece potremmo dire per un max di 900, potremmo fare la stessa cosa, avete max 900 Flex Raw, altrimenti, vedete, quindi max 900 sta in Flex Raw, una volta che c'è di 900, vai tranquillamente in Flex Call. Perfetto. Allora, e quindi abbiamo visto i breakpoint predefiniti, e i valori arbitrari. Tuttavia, parliamo di Mobile First, che per qualcuno potrebbe essere la prima volta che lo sente. Che cosa vuol dire Mobile First? Mobile First vuol dire che noi diamo la precedenza di design al mobile. Perché facciamo una cosa del genere? Perché la maggior parte, è successo credo 5-6 anni fa, forse un po' di più se non mi sbaglio, è stato superato in termini assoluti il traffico da mobile su internet rispetto al traffico da desktop. Quindi ci sono più persone che consumano contenuti online da mobile rispetto a desktop. Va bene? Di conseguenza, è ovvio che ogni sito, ogni applicazione, web app, quello che volete, deve essere prima di tutto ben strutturata per quanto riguarda il mobile. Perché la probabilità dice che è molto più plausibile che qualcuno utilizzi il nostro servizio o sito da mobile rispetto che a desktop. Ovviamente ci sono i casi estremi. Se producete roba e software web app per persone che lavorano in magazzino, con computer, eccetera, eccetera, non lo useranno mai da mobile. Ma se parlate di roba a livello consumatori di massa, roba un po' più generica, allora è molto probabile che lo guarderanno da mobile. Qualcuno di voi, nonostante programmiamo, ci sta guardando sicuramente da mobile, da tablet o da telefono. Quindi diamo la precedenza al mobile. Il motivo per cui non mi avete mai visto utilizzare SM. Lo possiamo utilizzare SM, ma SM resta sempre un breakpoint. Quindi se volete fare qualcosa oltre 640, lo potete fare. Va bene? Il fatto è che noi andiamo a definire di default, vedete, classi che vengono utilizzate da mobile. Ok? Quindi tutto quello che scriviamo, tutte le classi che scriviamo, diamo per scontato che siano utilizzate da mobile. Va bene? Se poi dobbiamo fare delle aggiunte per quanto riguarda tablet, desktop, monitor 4K, monitor ultra wide, eccetera eccetera, allora andiamo a mettere i breakpoint. Va bene? Questo è il discorso. Quindi per tornare a quello che abbiamo fatto prima, noi scriviamo tutte le regole, ok? Ad esempio i background eccetera. Tolgo un attimo. Tolgo un attimo questi background. Allora facciamo così. Tac. Noi abbiamo messo questi background e diamo per scontato, fatemi aprire qua, diamo per scontato che il colore del background vada bene per tutti i dispositivi. Ma se così non fosse, non cominciate a lavorare per quanto riguarda il desktop e poi andate a ritroso. Perché è anche più complesso. Partite dal piccolo e se poi volete fare delle modifiche, aggiungete i breakpoint, ok? È così che si lavora. Non solo su Tailwind, si lavora così anche con CSS basico. Ovunque andate, qualsiasi corso facciate di CSS basico, in qualsiasi lingua, qualsiasi livello basico avanzato, eccetera, vi diranno che si parte a lavorare da mobile first e poi se c'è la necessità si va a cambiare il layout, i colori, le spaziature e quant'altro in base allo schermo utilizzando le media query. Quindi direi che per oggi è veramente tutto. Non c'è molto da dire. Provate a utilizzare un layout flex, un layout grid, insomma robe che abbiamo già visto. Ecco, forse il layout grid può essere interessante. Prendete il layout grid e passate a fare diverse disposizioni in base a che siate da mobile, MD, large, XL e 2XL, va bene? Niente di che, giusto per prendere confidenza, cambiate i colori, cambiate le spaziature, i gap, cambiate i call span, eccetera, giusto per prendere un po' di confidenza, anche se obiettivamente MD, LG, XL, 2XL e alla peggio SM. Va bene? Questo è quanto. Nel prossimo video cominciamo ad introdurre invece le pseudo-classi, quindi sull'over, eccetera, eccetera. Sotto in descrizione, come al solito, trovate i modi per supportare il canale, i miei altri canali, il mio sito, eccetera, eccetera. Io vi ringrazio, e alla prossima. Ciao, ciao!